Che cosa facciamo noi andando in montagna? Prendiamo misura, perché l'alpinismo vive da 250 anni esclusivamente da una discussione possibile o impossibile. I think for most of all getting out of the comfort zone is something negative, they don't like it, I like it a lot. Se vuoi essere un innovatore devi avere il coraggio di andare su sentieri diversi. E nella resilienza e nella perseveranza, se sei stato veramente visionario e intuitivo, che ottieni ciò che tu speravi. Perché trovare una passione in qualsiasi campo, nella pittura, nell'arte, nel lavoro, è qualcosa che ti porta a sormontare difficoltà inimmaginabili. Grazie a tutti.